Siamo arrivati alla settimana dal 10 al 16 dicembre 2017 di Tempesta d'Amore, la SOP tedesca che ha come nome originale Sturme der Liebe, che sta avendo i suoi fans numerosi nella versione italiana. Nelle prossime puntate assisteremo alla scoperta di Desiree e Nils, che si ritrovano innamorati, nonostante le discussioni. Gottfried viene a sapere da Charlotte dell'incontro con Christine, la tata che gli ha inviato una lettera. Vediamo insieme le altre anticipazioni settimanali. Anticipazioni Tempesta d'Amore Werner crede che Gottfried abbia doppi scopi e sia arrivato al Furstenhof per avere parte dell'eredità, che Ludwig, il padre, ha lasciato. Susan è piacevolmente sorpresa dal video girato da Desiree e le fa i suoi complimenti. Inoltre gliene chiede immediatamente un altro, che abbia Nils come protagonista. Egli riscuote molto interesse tra le ospiti dell'hotel. I consigli di Alphonse Alphonse invita Melli a non lasciare che padre Rimpella sfrutti per la realizzazione di lavoretti parrocchiali. André intanto scrive al giornale accusando il prete di avere compiuto un grave reato, ma è tutto un malinteso. Infine una nota dolce, Desiree si dichiara a Nils e gli dice di essersi innamorata di lui. Ella dà spazio al cuore e si lascia andare alla passione, mentre Desiree non è ricambiata da Nils e quindi si pente di essersi dichiarata con lui. Mentre la ragazza finge di avere scherzato, Nils le chiede di avere una storia, senza però assumersi alcun impegno serio. Christine e Gottfried, ancora insieme Christine e Gottfried si sono intanto rimessi insieme Charlotte è felice per questo. Ancora insieme la ragazza vorrebbe fare un bellissimo regalo al fratello, un viaggio da lui tanto sospirato. Werner invece ha paura che sia troppo generosa, mentre André tenta di ritrarre la lettera di accusa fatta al prete, ma è arrivato ormai in ritardo. Ella invita William a trascorrere la notte insieme a lei, mentre Oscar vuole tornare in Franconi e André gli confessa che Tina l'ama ancora, in modo di fargli cambiare idea. Alfonso e Hildegard invece lo lasciano libero e sciolgono il contratto. Dopo avere scoperta la bugia, Oscar saluta tutti, ringraziandoli e restituisce la fede nuziale a Tina. Le intenzioni di Desiree Desiree avrebbe l'intenzione di avere una relazione seria con Nils, intanto William fissa un appuntamento con Ella nella baita Carvandel, ma resta chiuso in cantina insieme a Werner. Friedrich e Beatrice conoscono Gottfried e Christine e William dopo aver raggiunto Ella, trascorre la notte con lei, mentre Rebecca che li sta pensando piange. Come avete potuto vedere la nuova settimana si preannuncia ricca di sorprese, che ne pensate?